Un abbandonato carro! Oh, che grossa fortuna! Per un lato gli abbandonati carri! Idea fix, che succede? Io dico il carro! Asterix, guarda! Oh, questa sì che fortuna! E da dove viene il tuo vino? Non è il tuo nome quello sul barile? Ho un fornitore eccezionale, ma è un segreto professionale! Da dove viene il tuo vino, eh? È un tale che si chiama Vadole Tacx, che me l'ha portato!